Un solaio è una struttura resistente bidimensionale piana a carico strutturale ortogonale, che concorre alla sicurezza statica, ripartendo i carichi sulle travi perimetrali della struttura di elevazione di un edificio. Pochi giorni fa, è diventata virale la notizia del crollo del solaio nell'ex convento di Giaccherino a Pistoia, dove si stava festeggiando un matrimonio, provocando 35 feriti. Ora nel web si è diffuso un video che mostra gli attimi del crollo. Gli invitati scatenati in pista sulle note della canzone L'Amour to Zur di Gigi D'Agostino, e poi il crollo improvviso che fa sprofondare tutti. I due sposi Paolo Mugnaini e Valeria Ibarra, di 26 anni, hanno trascorso la prima notte di nozze all'ospedale. Ora hanno sporto denuncia.